I singh AK47 I singh Sawdorf Shotgun I singh Olives I singh Dynamite On the street Bam ragazzi buongiorno buongiorno Kamiba contro McGregor incontro del secolo siamo qua con UFC 2 voi vi chiederete perché ha portato questo contenuto in realtà è un'idea che mi è venuta così ieri ho voluto giocare e riprendere in mano questo gioco dovete sapere che comunque sia io ho una passione per le arti marziali non come le motociclette perché non è che fin da piccolino ero davvero malato per le arti marziali però l'ho anche praticato per ben 4 anni quindi insomma so un po' cosa vuol dire e mi piace davvero tanto ragazzi Conor McGregor penso che lo conosciate tutti è impossibile faccio davvero fatica a pensare di no e alla fine è famoso no? sui social in tutto il mondo amanti e non amanti di arti marziali miste cosa è l'UFC ragazzi in realtà è un'organizzazione dei combattimenti dei lottatori di MMA MMA sarebbe Mixed Martial Art ovvero le arti marziali miste no? ecco intanto McGregor che fa lo sbruffone adesso ti vengo a rompere del tutto ti vengo a massacrare arti marziali miste e quindi come dire diciamo che come posso fare un riferimento con le moto fecolto che ne so una gara chi è venuto dalle minimoto chi è venuto dalle moto quelle garenate chi dalle naked chi dai motardi chi dai motocross insomma no? tutte decimine diverse unite in questa gambia dove i lottatori stanno e si devono massacrare con proiezioni vediamo qua intanto Khabib ragazzi mostruoso lui pensate è stato due volte campione del mondo di Sambo che è una arti marziali mista russa poi è stato campione nazionale mi pare due volte campione europeo e adesso nell'ultimo incontro che ha fatto è diventato campione dei pesi leggeri battendo proprio Conor McGregor e ha un ben un bel Alvodoro no Alvodoro comunque sia 26 vittorie con 0 sconfitte ragazzi quindi davvero davvero mostro è difficile pronunciare il come intanto qua Bruce Buffer che fa lo speaker ragazzi è fighissimo questo gioco è uscito anche il 3 però adesso magari lo comprerò fatemi sapere se vi piace questi combattimenti se vi ho fatto un pochino appassionare vi lascerò anche il link qui sotto del vero combattimento che è stato fatto tra Conor e Khabib dove Khabib gli ha scippato completamente il titolo e poi ragazzi è finita con una rissa clamorosa comunque ragazzi siamo come avete visto prima in modalità difficile eccoli eccoli qua dove si spengono tutte le luci evidenziati solo loro due mamma mia mamma mia mamma mia dobbiamo davvero andarlo a distruggere quindi dicevo sono dei lottatori che stanno tutti dentro che hanno diverse no discipline e riescono chi riesce insomma a sfruttarle meglio vince il combattimento come si vince o con sottomissione quindi soffocamento no oppure bloccaggio degli arti fino a che davvero il dolore è elevatissimo dove si batte tre volte sul tappeto e allora vince l'altro oppure con dei knock out ovvero K.O davvero pesantissimi dove non te ne accorgi l'incontro può finire anche al decimo secondo come successe da McGregor e Jose Aldo per il titolo dove dopo dieci secondi McGregor lo mise a terra distrutto quindi basta un colpo fatto bene dove vai a terra e non puoi davvero fare più nulla perché poi l'arbitro no da il K.O oppure finisce l'incontro fino ai cinque round e vince chi ha totalizzato più punti e chi ha lottato meglio intanto vediamo anche la differenza nel gioco dove lo sbruffone Conor McGregor si fa notare sempre è un Khabib davvero ignorantissimo che vuole assolutamente andarsi a prendere questa cintura vediamo uff si chiedono di battere i guanti ma vediamo un attimo Khabib se ne va cattivissimo vuole davvero demolirlo a Conor ragazzi non so se sarà così perché non ci gioco da un po vuole il guantino intanto primo sinistro subito inizia l'incontro subito caldissimo mamma mia gancio circolare questo qua è difficile due montanti un attimino dobbiamo prendere le misure bellissima una ginocchiata al fegato da parte di Khabib oh peccato liscio di un circolare destro davvero ignorantissimo mamma mia due adesso si studiano le meccaniche sono davvero bellissime di questo gioco attenzione perché Connor attacca ci da un grande circolare un altro montante sotto anche un calcio girato prova se questo entrava faceva molto male oh dentro però circolare destro dritto in faccia cil sinistro anche qui dai ragazzi un altro sinistro però risponde Connor a sfilza di circolari due mamma mia allora tecnicamente dovrebbe essere un pochetto più forte in piedi McGregor però noi oh ci ha fatto male ancora attenzione Connor adesso attacca siamo un pochettino adesso in ritronati prendiamo un attino di stamina e iniziamo a fargli male sul serio buono oh mamma mia che gli ha scelto stavo dicendo noi abbiamo siamo più forti a terra perché c'è tutta una parte della lotta a terra in questo gioco attenzione adesso il clinch cerchiamo di andare in under over cerchiamo a proiettarlo non ci riusciamo non ci riusciamo McGregor riprende e ci prova forse lui andiamo a fare il break non ci riusciamo attenzione è brutto da dietro si aggrappa cosa sta facendo Connor allora forse prova la matale Mataleao qui si la prova subito però usciamo noi usciamo alla grande cosa vuoi fare al secondo minuto già di Mataleao no Connor non è capito nulla la Mataleao in pratica è un nome brasiliano che sarebbe l'ammazzo il leone mi pare e in pratica vai a strangolare l'avversario che va a battere poi attenzione perché adesso c'è una scarica di diretti jeb montanti gacci di capito ignorantissimo attenzione però si para bene McGregor mamma mia mamma mia mi ricordo più che stavo dicendo ragazzi però l'incontro adesso si sta facendo caldo ancora un altro sinistro mamma mia si stanno pistando come l'uva ragazzi questi due vai cabino vai cabino vai cabino soltanto a capo riprende il nuovo il clinch ah ecco che stavo dicendo si che noi abbiamo siamo più forti a terra e sulle proiezioni vediamo adesso ci riusciamo infatti giù però c'è un problema che io non sono intanto pugnetti che però infastidiscono McGregor non sono bravissimo a terra non sono capace a giocare a terra infatti mi rivolta subito e quindi riusciamo a sfruttare totalmente il potenziale del nostro attenzione proviamo una sottomissione un triangolo però anche qui al secondo non è semplice proviamo a rialzarci ma niente conor vuole assolutamente stare sopra si mette sopra in posizione dominante attenzione prova anche la leva al braccio vediamo usciamo però troppi sottomissioni presto ci copriamo ci ottimo andiamo a destra andiamo sulla guardia piena gomitate in fascia mamma mia ragazzi voglio rialzarmi perché non sono capace a giocare a terra e odio questo che anche quando giocavo online la gente mi buttava a terra e e vinceva l'incontro come che sia non sono un pro player di questo gioco perciò attenzione gomitate adesso brutte per conor dai kabib rialziamoci rialziamoci reagiamo qua che la vedo brutta ci fa già uscire il sangue conor non va bene non va bene su 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 rialzati 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 niente 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 non vuole che noi ci rialziamo vai mamma mia che ti caghi sotto mcgregor dai e su ah aiio aiio ragazzi dobbiamo un attimo voglio la pausa voglio la pausa del primo round l'uomo scambio di chi ho fatto anche in capito anche nella nella guai di giustica cc oddio l'abbiamo preso bene adesso prego di tibia dc tb lisci 4 4 4 4 4 4 noi siamo addormentati ci siamo addormentati ragazzi oddio è andato proprio l'abbiamo spento per un attimo ragazzi se reagisce un po' giù ma niente liscio vai cambi vai cambi ancora qui che mamma mia che girato circolare sinistra in faccia mamma mia ancora comitata c'è ripreso alla stragrande cabib e questo vede ancora ma ancora che giusto stai giù la terra mamma mia che brividi affinerà un'epoca di torcati perché ti ho distrutto voglio vedere assolutamente il primo spegnimento di conor fatemelo rivedere perché questo si non ci voglio credere ha schivato il circolare l'ha schivato e poi quando sono ritornato l'ho preso nel cervelletto è andato giù si è proprio spento purtroppo però mi sono spento io perché potevo continuare a massacrarlo qua alla fine del round McGregor massacrato di 30 secondi per verità incubo per lui iniziamo con il secondo round di 5 cabib prova subito però risponde con un circolare conor McGregor ancora prova di montanti al corpo si gira mamma mia ragazzi ho scoperto questo colpo attenzione perché McGregor sta di nuovo bacollando però noi abbiamo poca stamina fondamentale è la stamina in questo gioco che vuol dire la nostra resistenza ovvero che se diamo troppi colpi a vuoto senza andare a segno il rosso che vede si consuma lo stesso modo se uno colpisce al fegato o alla mizza quindi nel busto fa diminuire la stamina dell'atleta intanto qua una serie di lisci per Khabib McGregor invece li mette a segno proviamo riprende di nuovo il clinch non vuoi andare giù non vuoi andare giù conor assolutamente no vai Khabib vai orso russo vai va comitate al fegato per conor McGregor mamma mia niente ragazzi niente questo clinch guardate come reagisce l'ho chiamato il break l'ho chiamato finalmente attenzione ci da non so cosa calcio è girato dietro io ragazzi non fai calci girati infatti questo mi dispiace molto anche perchè sono i miei calci preferiti attenzione perchè iniziano i primi segni di sangue e tumefazione alla faccia per loro due attenzione ancora ma fegato e poi rialza subito ma prova e niente c'è ributtato giù conor niente perché rialzarci subito ma ci blocca eccolo qua eccolo qua lo prendevo per la testa dicendo levati levati stiamo su giochiamo al tuo gioco e infatti conor risponde con un frontale in faccia mamma mia serie di jeb sinistri da parte di khabib ancora ragazzi che battaglia che battaglia si stanno comunque studiando e due non penso sia un incontro che oddio è uno di quegli incontri che può finire la metà l'altro che è circolare l'ha proprio sentito conor l'ha proprio sentito sul collo questo mamma questo un po' di meno ma quello di prima ragazzi massacrante ancora qui si stanno pissando male si stanno pensando male un altro destro che cattivi ragazzi questi sono attualmente i due MMA fighters più forti adesso in circolazione ragazzi secondo me capito ne ha davvero di più che gomitata incredibile sono come fatti tutte e due dopo un bel reparto mascillo facciale attenzione e risponde entra nella guardia capito che però risponde bene con un sinistro e disorienta un attimo McGregor ancora qui però ci prende incredibile colpo di conor vediamo se riusciamo ad andare sul collare singolo e magari fare una proiezione niente però ci blocca conor entra lui in guardia e questa è brutta perché ci può dare delle gironchiate brutte voglio andare in Thai voglio andare in Thai niente però ci blocca abbiamo poca stamina siamo messi male alla meglio Conor in questo clinch e allora andiamo in break levati dalle palle che incontro ragazzi davvero bisogna riuscire a sfruttare l'occasione giusta per fargli male riprova un'altra volta e noi ci rialziamo subito però mamma mia Khabib ignorantissimo vai 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 ci tocca il naso cattivo destra questa non è la posizione giusta per me voglio stare a sinistra riesco a giocare meglio no che bello che calcio girato sulla milsa bruttissimo ragazzi ci ha spento davvero la milsa questo è un brutto brutto colpo al corpo subito per Khabib però si rialza adesso cattivissimo va riprendo che è domintata mostruosa ma bellissima ah di poco se lo prendevo lo spegnevo ah mamma mia mamma mia che destra ignorantissimo attenzione anche una buonissima serie di McGregor e noi chiamiamo subito il break ci dà un bel frontale niente male un altro calcio girato questi calci girati al busto ci stanno disturbando assai macrono 15 secondi alla fine del round per ora possiamo anche finirla qua e prepararci per il terzo round dove dobbiamo riuscire assolutamente a metterlo K.O perché ragazzi se ho un bello gli ho piegato la testa finisce qui secondo round ragazzi stavo dicendo dobbiamo riuscire a buttarlo subito in K.O perché ho paura che poi andremo a perdere i punti ragazzi l'ho demolito la sua faccia è davvero demolita eccolo che capolavoro ragazzi mi ha dato un calcio girato sulla milza che davvero l'ho sentito l'ho sempre proprio sentito qui a sinistra guardate sinistra milza destra pegato mamma mia iniziamo con il terzo round su cinque ma volevo dare il punito non me l'ha dato conor mamma mia vai capito allora ignoranza di ignoranza pura dobbiamo riuscire a immettere un bel circolare sinistro e un diretto destro subito dopo oppure un ecco lo eccolo niente da fare niente da fare sì ragazzi perché devo sapere che il compattimento è tutta una catena cinetica e gli stiamo facendo tanto male tanto male di esposizionale e catena cinetica mamma mia questo perché se noi tiriamo un circolare sinistro e poi un diretto sinistro non va bene non è coordinato al massimo è meglio un circolare sinistro e un diretto destro perché viene meglio no attenzione lo ci siamo a prendere lo andiamo a buttare giù non so se è stata una mosso intelligente questa anche perché ne avevamo nettamente di più inizio round in piedi infatti veniamo qua però eh l'hai sentita l'hai sentita conor l'hai sentita no adesso si gira però sono sicuro che eccolo qui eccolo qui vediamo se non lo fai amatale non la fai adesso te lo dico non la fai perché stai abbastanza lesso stai davvero lesso e allora ti voglio pisztare come l'uva tiriamoci su tiriamoci su tiriamoci su vai 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 alzati alzati che ti faccio male conor me la sento male mamma mia vai vieni mamma mia un bellissima schivata sul circolare sinistro nostro dai con un bel frontale in bocca niente bello questo è ad ascia ragazzi calcio ad ascia attenzione ancora però sui calci ne ha di più conor però ragazzi fondamentale è entrargli male sinistro sinistro tutti i jab e il destro poi per kabib attenzione dai 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 che lo stiamo cercando il k.o. abbiamo tre minuti beh kabib ancora di ignoranza prova a buttarci giù e ci riesce nuovamente conor mangregor ci rialziamo subito però grandissimo adesso la precisione e la forza di kabib l'ursorusso attenzione siamo nella posizione sbagliata però attenzione incredibile cerchiamo di disturbarlo un pochettino ancora attenzione a terra che montante ciò 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 a terra non credo a terra kabib il film il film è mostruoso posto rossi ragazzi che montante qua quanto mi piace regalo questo gioco l'ha proprio sentito si sente proprio l'ignoranza tutto cattivo kabib dito al cielo e sei campione ufc pesi leggeri anche nel virtuoso arpoi lo stesso non era è poco tempo ma guardare ragazzi che montante l'ho proprio spento è andato in bar ringgir guarda scopo mamma b c'ha capito più ora c'è quello che distruttore dai ragazzi fighissimo davvero questo gioco è fantastico purtroppo però adesso c'è no purtroppo ho la moto cp da seguire da seguire ragazzi quindi non posso dedicarmi troppo però fatemi sapere se questo incontro vi è piaciuto e magari mi compro quel ufc3 ci andiamo a giocare dopo il mondiale magari fare una carriera perché è fighissima anche quella poi a partite online non lo so mcgregor ti abbiamo pistato come l'uva campione ufc pesi leggeri ragazzi fatemi sapere lasciate un commento e un bellissimo like da Khabib e Trastevere oggi è tutto al prossimo video ragazzi un abbraccio ciao